Festa nazionale dei borghi autentici d'Italia a Barrea dal 30 agosto al 1 settembre. Il paesaggio sarà testimone del valore comunitario dei borghi d'Abruzzo, una scelta importante per la regione Abruzzo che quest'anno appunto porta nel territorio questa manifestazione nazionale. Perché si è fatta questa scelta? Si è fatta questa scelta perché andando l'Abruzzo è ricco di borghi che valgono la pena farli conoscere. Quindi uscire dalle mura regionali e fare ingresso diciamo su un parterre nazionale e internazionale importante. Peraltro una location che merita tutta la massima attenzione. L'Abruzzo è ricca di questi borghi, è ricca di questi ambienti, è ricca di questi valori che devono essere portati all'attenzione. Io credo che poi a questo vada aggiunto un altro tassello di cui l'Abruzzo ne va orgoglioso che è l'enogastronomia che chiaramente ha la possibilità di esplodere quando si fanno queste manifestazioni. Soprattutto perché c'è un'attenzione da parte della regione anche alle microeconomie che comunque devono cominciare a risultare più attive e più presenti nei territori. Soprattutto per dare anche risposte importanti ai nostri giovani. Innanzitutto i punti forti sono quelli di carattere culturale, di promozione del nostro territorio, del territorio dei comuni montani, della zona interna del Parco Nazionale d'Abruzzo. Barrea è un paese che ha una caratteristica importante che è quella del paesaggio, una sintesi del paesaggio e dei tanti bellissimi paesaggi che ha l'Abruzzo. Barrea è una sintesi con un lago incastonato in alcune montagne, la presenza di grandi potenzialità naturalistiche e anche di un comune che è vivace sotto tutti i punti di vista e quindi conserva le tradizioni ma poi si sa anche proporre sulle nuove promozioni turistiche del territorio.